Siamo qui oggi a AIAE Gala e abbiamo due buoni amici, il professor Mario Fratti e il professor Mario Mignone, il primo presidente di questa associazione. È sempre un piacere essere qui a Vito. È sempre un piacere di essere qui e di celebrare le ragioni dei studenti e dell'associazione e del lavoro, sicuramente, dei membri dell'organizzazione. Mario Fratti è un playwright, un playwright successivo italiano-americano, soprattutto in New York City, e un professore. E siamo felice di vincere oggi. I like being among teachers, because they defend the Italian culture. Yesterday I was in a big complex, it was about immigration, the Calandra Institute. Today, here. So yesterday immigration, today teaching. Teaching. It's very important. Yeah, as you know, we take students to Italy to study contemporary Italy. No, and Mario has been doing that for 20 years. No, I don't remember. How many years? 23 years. No, 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 no. And he tells me... And he tells me... And he tells me... And he tells me... He always tells me about Rome, the pleasure of Raymond, the pleasure of teaching there, in Rome. The belle ragazze. Ok, grazie, Sai. Thank you very much. Our play. Ok. All right, adesso...